un saluto agli amici della casa chiave di milano oggi abbiamo fatto chiave con telecomando fiat panda 2021 ibrida ecco qua stiera aperta chiudiamo apriamo vediamo se funge alla grande perfetto chiave con telecomando fiat panda 2021 fiat panda ibrida fatta in pochi minuti perfetto milano casa della chiave number one